Tutta l'amministrazione alla cittadinanza, speriamo che il 2021 sia un anno meno finesto del 2020 e che sia il momento di rinascita per tutta la nostra comunità e per tutto il mondo. I vaccini ci danno questa buona speranza e ci impegniamo tutti affinché la nostra cittadinanza correttista. Ora insieme faccio auguri da tutto il gruppo della maggioranza e per la minoranza che presente il dottorio Ferris faremo gli auguri anche per la loro parte. A nome della minoranza mi associo gli auguri che ha pronunciato il sindaco. In effetti è stato un anno difficile, un anno però che ha visto il nostro paese presente per quanto riguarda gli aiuti che sono stati dati il più possibile alla cittadinanza, alle imprese e a tutti i cittadini che ne avevano necessità e bisogno. Un'amministrazione che ha cercato di collaborare, una minoranza con questa amministrazione come si è trattato di portare gli aiuti concreti a chi ne aveva bisogno e chi ha sofferto di più per la pandemia. Io mi auguro che il prossimo anno sia veramente un anno di rilancio, un anno di ristono come dicono oggi è un termine molto usato questo qua del ristono, un ristono per tutti i cittadini a cominciare da quelli che hanno più necessità. Ma che sia rilancio anche dal punto di vista politico perché il nostro paese deve avere quello che merita, un rilancio in tutti i sensi per portare avanti tutte le iniziative che sono state intravvese e anche quelle che si tenderanno di intravendere. Un buon lavoro a tutti e gli auguri fortissimi a tutti i cittadini che ne hanno più bisogno. Intanto ci siamo e questo già è una gran cosa e un grande risultato. Grazie. Auguri, 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 auguri.